Non mollare, Guido. Il denaro non è tutto. Intanto tu ci sguazzi nei soldi. Non esserne così sicura. Tuo padre ha lasciato anche qualche problema. Tanto è vero che ho dovuto vendere quella proprietà che avevamo nel Maryland. L'hai venduta perché non ti piaceva. Lì c'era nato papà. Non dire cretinate. Niente di grave, ma negli ultimi tempi Thomas si era messo a giocare... Devi dirle che siamo andati a letto assieme, capito? Ma perché? Si crede innamorata di te, non hai visto? Ne ho ordinate tre, anche per voi. Ma perché? Ma perché? No. Ma perché? Grazie a tutti. Grazie per la visione!